Non è la prima volta? Un anno fa è già successo, è successo in questo locale, adesso sono entrati in magazzino, si vede che hanno trovato un angolo con un po' di buio, hanno pacciugato lì, secondo me dobbiamo ingabbiarci dentro, purtroppo è così, adesso ormai anche allarmi, abbiamo tutto, ma sono nato anche allarme, ci mettiamo dentro una gabbia a lavorare e vivere. C'è molta amarezza, insomma. Quando ti capitano queste imprevisti qui, purtroppo, si aspetta, ma poi sono sempre molto piacevoli le situazioni. Il danno più o meno? Stiamo quantificando perché c'erano numerosi ricambi telai in carbonio, c'erano delle ruote in carbonio, anche della roba bella. Da domani cosa farai? Mettere un allarme più sicuro? No, l'allarme ce l'abbiamo già più sicuro, dobbiamo, unica cosa, certe porte o certi ingressi murare, proprio chiudere, meno ingressi possibili nei locali. Spero che non butteranno giù i muri, proprio spero di no, però in qualche modo dobbiamo proteggersi, qualcosa dobbiamo fare.